parte oggi la trentunesima puntata di nel blu il programma che ci porta alla scoperta dell'area marina protetta del monte di portofino e delle attrezzature delle caratteristiche speciali di alcune invenzioni che vengono diciamo realizzate per il mondo della subacqua questo quest'oggi grazie a cressi e al dottor avallone che è un dirigente del di cressi ma anche un subacqueo appassionato racconteremo due prodotti molto speciali il primo è una maschera che non si appanna sì diciamo che questo è un po il sogno realizzato di lunga data un po da tutti da me in particolare quando ero bambino la prima cosa che dicevo la mamma mamma non ci vedo con la maschera e allora questo era un problema per un subacqueo è noto che questo può essere un problema importante finalmente dopo molti anni la cressi ha risolto completamente questo problema ideando un prodotto a mio avviso rivoluzionario ed eccezionale questa maschera che si chiama calibro che ha appunto la peculiarità di non appannarsi le caratteristiche principali di questa maschera sono due canali interni in cui l'aria viene convogliata l'aria che esce dal naso diciamo ha un certo calore entra in questi due canali quando arriva nel sui veti del canale l'aria diventa fredda e quindi non c'è più differenza termica fra diciamo l'interno della maschera e l'esterno e quindi la maschera non si appanna più e questo è un brevetto che sta per nascere diciamo proprio in questi giorni certo questo è un brevetto della cressi è un prodotto unico al mondo ora voglio passare il microfono a gianni perché ci racconterà insieme al dottor avallone un altro prodotto nuovo di cressi che presto sarà sul mercato sì intanto che chiaramente ringraziamo cressi perché oggi ci ha dato un'opportunità direi unica eccezionale telegenova è stata scelta per l'anteprima mondiale presentazione della maschera calibro quindi veramente siamo grati alla cressi che già arricchito la nostra puntata numero 31 di nel blu ci puoi far vedere un momentino il computer nuovo il nome del computer è goa anche questo dalle particolarità molto importanti innanzitutto è costituito da prodotti di altissima qualità in particolare il microprocessore che viene deriva dall'esperienza biomedicale cioè praticamente il microprocessore fatto di materiali che vengono utilizzati nel settore biomedicale tipo i pacemaker tipo l'olter quindi la risposta in termine di qualità di questo microprocessore è diciamo di altissimo livello è un prodotto quindi che non si ferma mai che risponde sempre alle esigenze del subacqueo sappiamo quanto il computer è importante in acqua ed è formato essenzialmente da due funzioni oltre quella scuba quindi per il calcolo decompressorio e così via anche per l'apnea o free diving la pesca e anche la modalità gauge ma è già sul mercato questo computer già sul mercato e volevo dire un'altra particolarità importante che la batteria di questo prodotto unico anche nelle sue caratteristiche dura dai tre ai quattro anni quindi una problematica che sovente avviene per il subacqueo in generale nel mondo quando la batteria si scarica facilmente questo è un prodotto che sappiamo che per tre o quattro anni non viene toccato. Puoi dare un'idea del prezzo? Questo sul mercato dovrebbe stare tra i 250 e 290 euro circa. Quindi anche un'ottima fascia di prezzo. Ultima domanda per quanto riguarda le persone come me che magari non hanno più la vista perfetta come stiamo a caratteri del display? Già il display ha dei numeri più grandi rispetto alle caratteristiche analoghe di prodotti simili sul mercato quindi i numeri sono già più grandi alla nascita del prodotto. Poi noi abbiamo inserito un protettore che viene abbinato al prodotto al momento della vendita che ingrandisce i numeri ulteriormente oltre che a proteggere l'orologio quindi diciamo anche persone non più giovanissime possono leggere tranquillamente nel senso sicuro in acqua. Bene non vedo l'ora di provarlo e adesso scendiamo a farci un tuffetto e poi vedremo come se tutto quello che la Cri si promette sia tutto puntualmente confermato ma io non ho dubbi. per la Cri si è stato un mamp leggi. werello? E allora la Abbiamo raggiunto punta chiappa e ci apprestiamo a scendere nel blu Possiamo subito notare, anche prima di andare in acqua, questo è un atto che viene comunemente fatto da tutti i subacquei Se noi mettiamo la maschera sul viso, cerchiamo di ispirare o di espirare, si vede subito che la maschera rimane perfettamente nitida, chiara e non si appanna Andiamo in acqua col Goa, come abbiamo già detto ha delle caratteristiche tecniche molto importanti Diciamo che prima di andare in acqua è stato settato già per le immersioni Ha soltanto due bottoni, quindi è molto facile da utilizzare E come abbiamo detto anche in precedenza la visione dei numeri è molto ampia Quindi numeri molto evidenti che rimangono subito visibili al subacqueo Tele Genova oggi ha avuto un'opportunità eccezionale di presentare in assoluta anteprima mondiale una maschera veramente innovativa È talmente geniale e nuova questa maschera che possiamo paragonare il momento storico a quando negli anni 50, verso il 52-53 Nacque la Pinocchio, una maschera decisamente straordinaria Che ancora oggi è nel catalogo Cressi con varie chiaramente migliorie Però va sottolineato il fatto che questa è una vera novità In un campo, quello della subacquea, dove tutti spacciano per novità tante piccole innovazioni Ma di fatto non si inventa mai niente, c'è poco di nuovo Questa mi permetto di sottolinearlo con entusiasmo Perché da vecchio subacqueo vi dico che è difficile trovare dei prodotti nuovi E' una vera novità che farà storia Dopo la Pinocchio per più di 60 anni, penso che questa andrà avanti per decenni Un po' più di 30 anni, penso che la faccia c'è da un po' più di 80 anni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.